Perché? Perché? Cosa mi rappresenta? Questo computer che non va? Perché non va il suo computer? Cos'è? Perché? Chi l'ha fatto? Chi l'ha creato? Questo cazzo di computer? Perché? Allora, cioè, perché in Italia le cose devono essere sempre fatte in maniera approssimativa? Sempre questo scempio, questo scempio, in Italia scempio delle operate, scempio dell'informatica. Questa è la mafia, è la mafia degli aulimetti, di quei fascisti capitanati dalla Bustolini e dalla Santanchè. Questa è la colpa della mafia dell'Italia che fa sempre le cose in modo... Quindi era cazzo, approssimativamente. Io non lo so, Barbara, io non lo so, Barbara, cosa ci siamo messi qui. Eh? Capre, vergogna, 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 capra, capra.